cari amiche oggi vi presento un nuovo filato di filati discount è un filato bellissimo molto lucido veramente molto bello per l'estate e leggero andiamo a vedere la sua composizione poi vi dico insomma i colori colori ne sono sei e sono bellissimi allora la sua composizione è il 62 per cento di poliestere il 38 per cento di cotone consigliano i ferri due oltre l'uncinetto due oltre sono 50 grammi 230 metri veramente un filato meraviglioso vi dico adesso i colori questo è il color carota questo è il color greggio poi abbiamo il color curcuma petalo bambù nero e poi il carota che vi ho detto prima allora andiamo a lavorarlo con l'uncinetto io prendo un uncinetto numero prendiamo il 3 proviamo prima con il 3 poi possiamo provare con il 2 poi vi faccio vedere altri filati che ho preso andiamo a lavorare proprio l'arancio mi sposto un pochino con i filati che li lascio vicino così potete ammirarli andiamo a vedere come vedete abbastanza lucente proprio perché la il poliestere lascia proprio questa lucentezza e anche questa leggerezza infatti su 50 grammi abbiamo 230 metri però resta molto leggera dove possiamo realizzare ecco dei top leggerissimi oppure dei scialle che sono molto leggeri d'estate giacchini possiamo realizzare tutto è veramente anche delle stole proprio perché gli piace un un filato che sia leggerissimo allora proviamo un attimino a realizzare un campione ho preso proprio il color carota che lo trovo è bellissimo e andiamo a realizzare qualche catenella si lavora benissimo molto non scivola assolutamente sull'uncinetto come vedete non scivola io sto lavorando con il te diciamo il numero più grande che ci consiglia ma possiamo lavorare dal 2 al 3 adesso proviamo a lavorare delle maglie alte devo dire pensavo che sarebbe scivolato un pochino sull'uncinetto invece assolutamente non resta ben fermo adesso ho preso il filo dall'esterno ma non dall'interno e ruota un pochino il gomitolo però vi devo dire che mi piace già tantissimo possiamo realizzare un topino poi abbiamo 230 metri una resa una resa molto importante per cui con poco con pochi gomitoli riusciamo a realizzare un top faccio vedere da vicino vedete molto bello è molto molto bello adesso ho fatto tante catenelle ma volevo farvi vedere proprio l'effetto a abbiamo anche il color bambù se ci piace il verde o il petalo che è un rosa un rosa molto delicato ecco qui ne ho fatte tantissime di catenelle ma allora facciamo il lavoro veniamo un pochino girando lavorando anche un'altra riga vediamo l'effetto abbastanza risulta abbastanza compatto con il 3 se vi piace una diciamo una trama più più morbida potete lavorare con il tre e mezzo e sono sincera perché non scivola assolutamente il filato non voglio far vedere ecco da vicino vedete adesso tolgo i gomitoli davanti e andiamo a vedere proprio l'effetto da vicino finisco questa riga ecco qui ho cambiato inquadratura ve lo faccio vedere proprio da vicino il filato è bellissimo come vedete abbastanza con con il 3 abbastanza consistente eccolo qui veramente piace tantissimo un bellissimo filato eccolo così si vede anche tutto il suo splendore allora è molto leggero o molto leggero e questo è il filato questo il color carota possiamo andare a vedere da vicino il colore greggio eccolo qui si vede benissimo faccio da vicino anche l'altro calo il colore curcuma petalo andiamo a vedere va bene il nero venire come lucido questo effetto bellissimo eccolo qui lo rappresenta molto questo e adesso andiamo a vedere il bambù eccolo qui cioè vedere anche bene bene da vicino vedete come come bello lucente non ha l'urex faccio vedere anche meglio dal ecco qui veramente molto ma molto bello allora questi sono i colori i colori che vi ho mostrato ne sono sei ne sono per cui ripeto ancora greggio curcuma petalo carota bambù e nero per cui potete scegliere i colori che vi piacciono di più io sicuramente proverò con due mi piace insomma provare con due o tre colori insieme proprio per vedere poi l'effetto il risultato di questo meraviglioso filato adesso passiamo ad un altro filato che ho preso come per magia ho cambiato subito inquadratura vi faccio vedere il nuovo filato il nuovo cordino questo è un cordino meraviglioso con il lurex e il luminoso questo è il color royal 200 grammi a rocca e alla sua composizione di 45 per cento cotone e 45 per cento poliestere 10 per cento di fibra metallica sono 400 metri sono tantissimi veramente in una rocca 400 metri sono veramente tanti e i ferri consigliano dal 6 all 8 l'uncinetto dal 5 al 7 è veramente un filato spettacolare ma andiamo a vedere da vicino molto 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 bello ho preso anche per realizzare la borsa ho preso anche una fodera questo è il jeans scuro questo è il jeans scuro io ho preso un fondo perché probabilmente la farò col fondo devo un attimino vedere tra questa la misura se non sbaglio è dei 32 questa se non sbaglio e poi vi lascio sotto il link adesso non ricordo a memoria andiamo a vedere il filato da vicino eccolo qui così lo vediamo da vicino è veramente un cordoncino molto molto bello eccolo qui bellissimo con questo lurex ho scelto questo colore royal che mi piace tantissima poi a 400 metri a rocca sono tanti perché abbiamo tanto tanto da lavorare a ogni rocca vediamo di realizzare una bellissima borsa io ho preso due rocca e sono 200 grammi a rocca bellissimo un altro cordino che ho preso è il thai il thai italy è un cordino che già conosciamo a me piace tantissimo ma sono usciti dei nuovi color dei nuovi colori estivi andate date a vedere vi lascio il link sotto io ho scelto il color glicine voglio provare insomma a realizzare una borsa veramente particolare con questo colore che per l'estate è fantastico vi dico sempre la composizione del thai italy è una rocca sempre da 200 grammi 300 metri allora consigliano l'uncinetto dal 3 al 4 a questo cordino ovviamente adatto per le borse ad uncinetto e mi piace tantissimo che sono 300 metri e sono veramente veramente tanti per alzare due rocca per realizzare una borsa fantastica infatti adesso che voglio provare con con questo filato che già ho utilizzato in diversi progetti vi lascio link sotto delle altre borse che ho realizzato questo colore è nuovissimo per cui ci sono nuovi colori andate a vedere vi lascio il link sotto ancora i filati tutti insieme questi che ho scelto per i nuovi progetti per cui il luminoso royal poi il nuovo il nuovo colore il thai italy glicine e il nuovo filato eccolo qui il nuovo filato sermione ora mi fate sapere nei commenti quale di questi sei colori del sermione vi piace di più che andiamo a lavorare subito un progetto io vi saluto ci vediamo ai prossimi tutorial un bacione a tutti ci vediamo sempre lunedì venerdì con il tutorial ve lo ricordo il mercoledì podcast e poi il video della domenica un bacione a tutte basi